In campagna elettorale, ricordo, in tanti avevano promesso soluzioni definitive per contrastare l'erosione costiera di Martinsicuro, Albadriatica, Roseto, Pineto e tanti altri comuni della costa abruzzese. Avevano promesso le barriere, avevano promesso i ripascimenti. Purtroppo ad oggi nulla, nulla di tutto questo. Nulla nell'estate 2019, nulla per l'estate 2020. Adesso hanno presentato un progetto per quanto riguarda una spiaggia di alimentazione per la costa nord di Albadriatica, ma già tante associazioni, tanti operatori e tanti sindaci sono preoccupatissimi per questo intervento. Noi di centrosinistra, con l'approvazione della legge cura Abruzzo, avevamo inserito un emendamento per indennizzare e ristorare i tanti concessionari di spiaggia offesi dalle mareggiate del novembre 2019. Nella stessa legge era previsto che entro giugno 2020 la Giunta regionale doveva provvedere ad approvare una delibera per definire le modalità di erogazione di questi contributi. Ad oggi sono passati mesi, questa delibera non è stata approvata. La Giunta Marsilio, pensate, non rispetta nemmeno le leggi approvate dal proprio Consiglio regionale. e per questa ragione presentiamo nei prossimi giorni un'ulteriore interrogazione al Governatore e all'assessore competenti. I concessionari di spiaggia hanno diritto di avere questo ristoro previsto nella legge per un importo complessivo di un milione di euro.